Da tifosi del Milan, non da amministratore delegato del Milan, devo ringraziare il Presidente Berlusconi che evidentemente di tutte queste operazioni sono state concordate e hanno ottenuto l'approvazione di Silvio Berlusconi che ancora una volta ha messo mano al portafoglio e ha consentito al Milan di ritornare, secondo me, competitivo per lo scudetto. Ed era desiderato anche dallo stesso Allegri, De Jong. Come dallo stesso Allegri? Anche da lui. Tutti i giocatori che si prendono sono desiderati da Presidente, dal sottoscritto, da Allegri e da quanti fanno parte del Milan. Quindi adesso però il signor Allegri si deve preoccupare perché l'obiettivo del terzo posto non è più quello e adesso deve giocare per lottare, per vincere come abbiamo fatto negli ultimi due anni.